Si chiama Robert Shock, pensate che è un uomo che era andato a correre, stava facendo footing, un'attività fisica che fa molto bene alla salute, quando a un certo punto è letteralmente scomparso nei boschi. Di lui si erano perse le tracce, per un mese le persone a lui più care non avevano più notizie, che fine ha fatto? Si stavano chiedendo. Ebbene, è stato ritrovato vivo, ma privo di vestiti addosso, quindi nudo e addirittura in fin di vita. L'uomo è riuscito a sopravvivere, un elicottero lo ha avvistato, l'uomo ha gridato aiuto, sperando che l'elicottero stesso lo notasse, lo ha notato, ha agitato le braccia, si è sbracciato, alla fine però per fortuna ce l'ha fatta. Da 39 anni di età è riuscito a sopravvivere nei boschi freddi, proprio in questione. È riuscito però a sopravvivere, diciamo che sia adeguata ad un regime alimentare particolare, basato su frutta e verdura che trovava, sul cibo che trovava, su procacciava, seduto nudo, pensato di non sopravvivere alla notte, ha fatto un urlo nell'ultima volta, è riuscito a chiare attenzione, qualcuno lo ha aiutato. Un elicottero infatti sembra che lo abbia effettivamente, parliamo sul colso. Insomma, Robert Shock poteva morire, ce l'ha fatta, Robert Shock, una persona da apprezzare, che ha creato in sé stesso abitudini per riuscire a farcela, punto e chiaro. Bene, vi ringrazio per l'ascolto, per la visione, il video termina qua, una buona sera.